E ormai no, non è caldo, non è caldo, è lo sfarinamento della... Scusa un attimo solo per favore, scusate. Che vuoi più? Dopo il pranzo con Monti Berlusconi vi ha dato una linea, si conferma la posta. Abbiamo? E dai, ma però così non fai lavorare gli altri, così sono cretino. Intervistate questo ragazzo che sa tutto. Sono cretino, così non fai lavorare gli altri. No, non credo proprio. Sì. Capito? Grazie a tutti.